Ogni città ne ha una, la casa stregata che tutti i bambini evitano. La nostra era Thornhill, la villa di famiglia dei Blossom, con il suo cimitero privato. E intrappolata tra le sue mura, come un'eroina gotica, Cheryl Blossom, straziata dalla morte dell'amato fratello Jason. Legati nella morte, come lo erano stati nella vita. Grazie.